Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi un video che ho veramente il bisogno fisico di dover fare perché con tutti questi giocatori, difensori, terzini della Bundesliga che ci stanno tirando nei denti tra un SBC e un obiettivo e un giocatore sul mercato, veramente si è creata una confusione gigantesca e i vostri dubbi iniziano veramente a diventare tanti, quindi facciamo un bel recappone anche in base a quelli che sono i test che ho fatto, i giocatori che comunque si vanno a valutare anche in base a determinate caratteristiche oggettive in base ad alcuni ragionamenti, in base a carte non scambiabili che magari potete avere quindi andiamo a vedere un attimino di risolvere questa questione che ormai è diventata veramente problematica secondo me Passiamo subito sulla schermata di Footbin dove ho raccolto tutti quelli che sono i giocatori arretrati all'interno di questo maledettissimo campionato della Bundes e in particolare ci ho buttato dentro anche i giocatori che sono usciti in passato vedete un po' dalla Barra, i vari Alaba, Mucchiele, eccetera eccetera Partiamo dal primo giocatore che è Lacroix Lacroix, per 350.000 crediti ed è un giocatore scambiabile nonché molto più semplicemente linkabile credo sia uno dei migliori usciti in base a quello che è appunto sia il rapporto qualità-prezzo sia l'utilizzo e il rendimento perché come avete potuto vedere anche all'interno della review questo è un giocatore di 1,90m per 88 di peso e un body type high get average che però sembra un pochino più snello dell'average solito e in particolar modo molto preciso negli interventi molto rapido, molto scattante con l'L2 nel coprire i movimenti avversari è quello che probabilmente all'interno di questa carrellata ai difensori è quello che mi è piaciuto di più Una delle domande più ricorrenti è meglio Lacroix o Tapsoba, il suo compagno di merende? Allora, qui la prima valutazione che bisogna andare a fare è che Lacroix innanzitutto è scambiabile e quindi nel momento in cui magari vi ritrovate un'altra carta tra le mani, potete tranquillamente venderlo e sostituirlo Soprattutto costa 350.000 crediti mentre l'ASBC di Tapsoba costa 320k quindi bene o male il prezzo è quello ed è vero che Tapsoba essendo un ASBC magari il prezzo si riesce a abbassare con i pick della VL, con carte non scambiabili eccetera eccetera però dovete comunque calcolare che quella valuta che voi state andando a risparmiare è comunque valuta potenziale che potete andare a investire in altro Inoltre il buon Tapsoba ha anche una nazionalità abbastanza esotica quindi è molto più difficile da linkare rispetto alla Croix e inoltre a mio modestissimo parere lo trovo meno scattante perché nonostante pesi 10 kg in meno, ok? e sia alto solamente 2 cm in più e presenti lo stesso body type vedete che ha un body type high average plus difatti questo qua paradossalmente sembra un po' più tozzo rispetto alla Croix e questa è una cosa che a me non fa impazzire, ok? di questo giocatore io adesso non vi sto dicendo che Tapsoba è scarso vi sto dicendo che in una scala personale di preferenze lo piazzo dietro la Croix questo come primo confronto tra due andiamo avanti e troviamo Zagadou l'ultimo arrivato, tra virgolette che è una carta showdown cosa vuol dire? nel momento in cui il Borussia dovesse battere il Leverkusen riceve un più due nel caso in cui ci sia un pareggio invece andrebbe a prendersi un più uno quindi comunque discreto è un giocatore che è un SBC e costa 170.000 credit quindi comunque una valuta che è abbastanza accessibile alle tasche di tutti quanti è un giocatore molto affordable sotto questo punto di vista è un 1,96 per 90 kg ma ha un body type high stock quindi è veramente cicciottello è il più pesante, tra virgolette di quelli che vi ho fatto vedere fino ad ora ossia la Crato, Apsoba e Zagadou lui è sicuramente quello che reagisce un po' peggio ai movimenti degli avversari con le L2 magari è quello più pesante però c'è un grossissimo però che ad esempio rispetto a Apsoba lo potete linkare un pochino meglio ok? tuttavia nonostante queste doti diciamo generiche che sembrano far provendere a suo favore io lo colloco dietro Apsoba perché lui ha 85 di velocità ma in realtà è un parametro hard carriato da questo 80 di accelerazione invece Apsoba vedete ha 85 di accelerazione addirittura 92 di velocità scatto e la Croix 83-95 quindi lui è quello che fa un po' più fatica in campo aperto è vero che è un difensore centrale di ruolo così come però lo sono anche Tapsoba e la Croix e sapete che all'interno di un meta dove quest'anno si spinge tanto sull'acceleratore io onestamente lo pongo dietro la Croix e Tapsoba tuttavia per quello che costa si può anche fare la pensata di sbloccarlo tenerlo nel club per la scienza e testarlo anche perché non vi dovete mai dimenticare che magari gusti personali vi trovate benissimo con giocatori di questo tipo anche se non sono estremamente meta o non piacciono a chi magari sta facendo un determinato tipo di valutazione quindi tenete sempre a mente a mente questo quindi io lo piazzo dietro questi due prossimo giocatore sull'elenco è David Alaba questo probabilmente è più sopravvalutato di quelli che al momento vi ho mostrato perché costa praticamente quasi tre volte tanto la Croix costa tre volte tanto Tapsoba e costa otto volte tanto Zagadou per un giocatore che è sì rapido ma alla fine ha la velocità di un conde è un metro e ottanta ha un body type lean quindi è molto snello rischia di perdere alcuni contrasti a via del suo body type e onestamente è vero sì che è del Bayern quindi magari vi può sbloccare alcuni link interessanti è comunque un giocatore austriaco quindi io lo pongo bene o male un pelino avanti a Tapsoba in ottica e brittabilità ma non dico che siamo sullo stesso livello ma quasi perché per poter mettere Alaba bisogna praticamente optare necessariamente per una difesa non dico full bundes ma quasi quindi io Alaba onestamente lo piazzo dietro sia Maxence La Croix che Tapsoba che Zagadou sia in termini di qualità prezzo sia per quelle che sono le ragioni di brittabilità eccetera eccetera io non lo comprirei mai un giocatore quasi a un milione quando c'è La Croix che costa 350.000 credit Tapsoba che vi portatevi a meno e Zagadou che costa un decimo praticamente andiamo avanti e arriviamo a un altro giocatore molto 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 chiacchierato Babu questo qua per me è il mostro finale e vi spiego perché io ho il what if non scambiabile e lo amo tuttora la differenza tra Babu what if e questo qua a detta di chi l'ha provato perché io non l'ho testato si sente solamente se lo utilizzate da terzino ma questo qua è il difensore centrale finale io vi assicuro è il difensore centrale finale ha anche un 4 di skill molto interessante e a livello di rendimento in game io questo lo piazzo praticamente davanti a tutti lo piazzo persino davanti la Croix Tapsoba Zagadou questo qui se lo riuscite a linkare è veramente clamoroso in più c'ha lo strong link con la Croix visto che sono entrambi del Vosburg compagni di merende e questo per me è straconsigliato straconsigliato in posizione di DC va davanti tutti questi qua che abbiamo visto fino ad ora ed è veramente un bel giocatore ripeto nonostante sia un metro e 84 quindi magari non è altissimo un bel body type Powerage che ci piace ha un bel 88 di forza questo qua non mi chiedete che c'ha ma è sbroccato è veramente forte 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 prossimo giocatore il prossimo giocatore sulla lista è Baku Baku che ho testato come vi ho già detto per me deve fare lì il terzino perché da DC non rende benissimo un po' pesantino ha un body type non proprio eccelso deve fare il terzino e sicuramente lo vado a piazzare poi dopo vi faccio vedere il confronto con gli altri giocatori neanche in cima a quelle che sono le mie preferenze però costa 50k anche lui è del Fosburg quindi può sbloccarvi link interessanti poi sarebbe quasi da fare una difesa full Fosburg con Baku ma la Croix e Babu sarebbe clamorosa con magari un terzino sinistro all'altro lato quindi Baku per me è un giocatore che vale però lo pongo comunque di riserva tra virgolette rispetto a giocatori che vedremo a breve andiamo avanti e abbiamo Alfonsino Davis nella sua versione Tots questo qui come vi ho detto nella review può fare tutto può fare il terzino può fare il DC può fare veramente qualsiasi cosa se io devo fare un paragone ok con quelli che sono i giocatori visti fino ad ora io lo pongo dietro un Babu la Croix e Tapsobap nella versione di DC visto che la modalità è punico ed è un po' piccolino e lo preferisco rispetto a quelli da terzino ma lo pongo davanti Zaga 2 e Alaba perché questo qua rispetto a loro il DC lo fa meglio quindi se avete quei due o volete sbloccare quei due vi ritrovate Davis e sappiate che il DC ve lo fa meglio rispetto a quei altri due giocatori lì qui lo mettiamo in una posizione intermedia così come un altro bel giocatore è questo Russijon che come vi ho detto 100 volte essendo una carta obiettivo per cui è una carta gratuita che dovete semplicemente fare due cagatine di appunto obiettivi e ve lo ritrovate a gratis tra le mani questo qua è molto valido anche lui è esclusivamente da terzino perché da DC non è proprio il giocatore ideale visto che è un metro e 75 lo vado a porre davanti a Baku però vabbè è un giocatore che sta a sinistra mentre Baku sta a destra e questo qua è molto molto forte e vi dà anche la possibilità di poter sbloccare appunto link interessanti alla Croix appunto qua ormai andiamo a completare il quadretto perché abbiamo la Croix a sinistra Babu magari messo a 7 a destra difensori centrali e poi sulle due esterne abbiamo Russijon e Baku in quella che è una difesa Fosburg che è di un buggato che è veramente qualcosa fuori di testa nello scorso Toz invece quello della community era uscito sto mucchiele il baccone un metro e 87 high gay average di body type questo qua io da terzino onestamente lo vado a piazzare persino dietro a Baku sia per l'ottica qualità a prezzo sia perché onestamente l'ho trovato un po' pesantino comunque come Baku palla al piede con un cristone di un metro e 87 allora la domanda qua e allora lo metto a DC e va bene lo vuoi mettere DC però se tu lo vuoi mettere DC mucchiele io onestamente lo piazzo dietro tutti quanti tranne Alaba e neanche tanto per il rendimento ma in maniera un po' più esclusiva per quello che è il rapporto qualità-prezzo perché parliamo di un giocatore da 300.000 crediti contro un giocatore di un milione quindi che vale tre volte tanto quindi in termini di utilizzabilità da DC mucchiele scala dietro Zagadu Davis Tapsobal Lacroix Mbappu mentre per quanto riguarda Alaba si piazza davanti e come terzino io lo piazzo dietro Baku per quello che è l'ottica qualità-prezzo a concludere questo quadretto familiare tedesco abbiamo Lazzaro che costa 150k si è un po' alzato visto che i fodder sono saliti di prezzo ma questo qua come vi dicevo anche nella review con gameplay che trovate negli scorsi video è un giocatore fantastico in particolare da terzino non da DC perché da DC non mi ha soddisfatto ha un body type un po' strano vedi anche lui l'in alla Alaba che quindi gli fa perdere qualche contrasto di troppo però c'ha quel 5 di skill che sull'esterno me lo fa preferire quindi ad esempio Lazzaro visto che comunque ve lo portate a casa con poco anche con i pick e la VL scalza tutte quelle che sono le gerarchie come terzino destro e da DC invece non è assolutamente utilizzabile quindi per quanto riguarda raga questa situazione in Bundesliga spero che abbiamo messo un po' di ordine spero che vi siete chiariti un po' le idee poi sono curioso di sapere anche quelle che sono le vostre opinioni insomma nei commenti perché fa sempre piacere sentire i vostri feedback sui giocatori vi ricordo che in descrizione trovate tutte le info per le live giornali sulla piattaforma Viola raga a me non resta altro che salutarvi augurarvi una buona giornata statemi bene ciao ciao